Ciao amici, questo è un video extra perché voglio condividere con voi un'esperienza un po' terribile che ho vissuto ieri, domenica 19 novembre, alle 13.35 circa. C'era tanta luce e il cielo era azzurro, molto azzurro. Io ero a Salso Maggiore, in provincia di Parma. Stavo scrivendo al computer quando ho sentito come un colpo sul pavimento e lo ha fatto vibrare tutto, sembrava il rumore di un mobile quando cade, un grosso mobile. Io ho pensato che fosse successo quello, anche se dicevo come è possibile. Dopo qualche secondo è arrivato un colpo ancora più forte che ha investito le pareti, ha creato una serie di boati come delle esplosioni dentro casa e poi un altro colpo sulla parete di fronte a me. E a quel punto le pareti hanno iniziato a tremare. Tutto tremava, la scrivania, la sedia, quasi sono stata buttata giù dalla sedia. Allora ho realizzato che si trattava di un terremoto. Allora ho chiamato le persone che erano lì con me e mi sono precipitata verso l'uscita per andare in strada. Per fortuna dopo qualche tremolio le scosse si sono fermate. Da bambina ho vissuto il terremoto del Friuli. Allora vivevo con la mia famiglia a Cortina, nelle Dolomiti del nord-est. Ma le scosse le avevamo percepite più leggere di queste. Comunque mi ricordo siamo finiti in strada, siamo usciti. E in quei giorni c'era anche la mia cara nonna Clelia di Ferrara. Lei piangeva tantissimo perché si era ricordata delle bombe che aveva vissuto durante la guerra. E in quei giorni mia madre aveva preparato una borsa che bisognava afferrare al volo e precipitarsi fuori se ci fossero state altre scosse. Era il 6 maggio del 1976. Io non avevo ancora dieci anni, ma mi ricordo benissimo tutto. E chissà quante altre persone insieme a me. Così ieri siamo rimasti sospesi in attesa per una mezz'ora. C'erano tante persone che parlavano, parlavamo tra di noi. Ci stavamo un po' tutti riprendendo dallo shock. Poi siamo rientrati. Ma se ripenso a quei momenti dopo il primo boato, non ho avuto paura. Ho pensato a come reagire subito. E quando tutto è finito, ho pensato molto alle popolazioni che hanno subito questo tipo di attacchi così a freddo, in modo devastante, come una guerra. Perché di questo si tratta? Ho pensato a quelle persone che hanno visto la loro vita andare a pezzi nel giro di pochi minuti. Pensavo all'Aquila, all'Emilia, alla bassa modenese, a Matrice, all'albergo di Rigopiano. Mi confesso che mi sono commossa ed ero molto dispiaciuta per il dolore che tante persone stanno ancora provando, per tutti quelli che stanno soffrendo. Così ho pensato di fare un video, dedicare a loro questo mio video e queste mie parole. Noi che non abbiamo subito questi attacchi in modo così forte, cerchiamo di essere solidali e di non dimenticare chi ha bisogno nel nostro quotidiano e in eventi straordinari come questo.